Gazzetta Football League, questa sera Big Match al centro sportivo Barona, al tuo salone Testori, abbiamo Nicolás Testori, ciao! Ciao, buonasera a tutti! Contro la sfidante, il Puma Team, 32 punti, contro 44, Antonio Pumarola, ciao! Ciao, ciao! Allora, voi 42 punti, 14 vittorie su 14, state facendo meglio della Juve, insomma, alla grande! Eh sì, anche se sono milanista stiamo andando bene, stasera sarà una partita non difficile di più, se la proviamo a mettercela tutta, anche se stasera non è al completo, vedremo di fare il nostro meglio, contro un avversario altrettanto forte. Pumar Team, avete 31 punti, 10 vittorie, un pareggio e 4 sconfitte, avete pareggiato proprio settimana scorsa con il Tetanam, però avete un po' rimaneggiati, stasera come siete messi? E purtroppo non meglio di settimana scorsa, perché stasera scorsa ho giocato la partita io, anche un altro ragazzo non viene mai. Ai ai ai, qui attenzione, le bombe, ritornati in campo! Purtroppo siamo messi male anche stasera, perché abbiamo, purtroppo, 5 infortuni che hanno finito la stagione, tra impegni di lavoro, sono sempre rimaneggiati, uno in più l'abbiamo recuperato questa sera per la partita con loro, vediamo come va, non è una scusa, vediamo di fare il nostro meglio, dai! Stovi invece come siete mestri organici o ci siete tutti? Siamo sette contatti come sempre ultimamente, però va bene così, pochi ma buoni, dai! Dattivi la mano come sempre, se non di fare il play, buona partita ragazzi! Sì! sembrano chissà non mogerete tighe non è Campaigno 久bile l'11 сделать senttrl macer Untins Terminato 1 a 1 il primo tempo fra autosalone testori del Puma Team per autosalone testori signatura di Riva, dopo pochi secondi il pareggio invece di El Puma Team da parte di Colombo. Un esci! bravo 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 Terminata la sfida tra Otto Seloni e testori del Puma Team, il Puma Team che compie l'impresa, stravince 5 a 1 sul campo della Caponista a punteggio pieno, con tre gol di Colombo, uno di Maderna e uno di Ochoa, vince per Otto Seloni e testori, inutile il gol del vantaggio iniziale dopo pochi secondi di Riva.